ciao a tutti oggi siamo in piemonte a mosso in provincia di biella siamo venuti qui a vedere il presepe gigante di marchetto sono con mia mamma e con leone adesso entriamo per le vie di questo bel borgo in esplorazione buona visione nella piazza dove inizia il percorso ci sono alcuni posteggi alcuni sono con disco radio noi abbiamo posteggiato appena fuori dal centro in questo slargo ea cinque minuti a piedi sulla sinistra della chiesa c'è una piccola casetta di legno dove è possibile ritirare la mappa del percorso ci sono le scale infatti queste le abbiamo appena fatte con passeggino in braccio e adesso dobbiamo scendere da qua quindi è o si fa il giro delle viuzze si può fare con passeggino oppure per fare il giro come segnalato insomma bisogna prendere in braccio passeggino il presepe gigante di marchetto è uno degli eventi natalizi più importanti del piemonte nato nella piccola borgata dalla quale prende il nome è ora allestito nel centro storico di mosso visitato dal 1980 da oltre 100 mila persone composto da circa 200 figure a grandezza naturale il presepe gigante è un vero museo tonografico che si rinnova ogni anno con botteghe e mestieri disposti nelle piazzette e vivicoli del paese adesso vi lascio qualche immagine ma tutti i bimbi intenti a vedere il teatrino a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Guardare ma non toccare, qua ci sono delle vere calde arroste. Non so se prima erano così ora di più. Speriamo che il video vi sia piaciuto e vi sia da spunto. Adesso ci siamo spostate già in un nuovo borghetto, ma di questo vi parleremo settimana prossima. Ciao. Ciao.